In formazione ampiamente rimaneggiata, ben 9 titolari assenti, il Gela gioca la sua onesta partita sul campo neutro di Mugnano di Napoli e dopo un primo tempo attento crolla purtroppo nella ripresa. Le attenuanti ci stanno tutte, ci fossero stati in campo i vari Alma, Bonafini, Bonanno, Gallon, Moi sarebbe stata chiaro, tutta un'altra musica. Alla fine il Portici vince per 3-0 e per Biancazzurri un punto nelle ultime tre partite è notte fonda. Andiamo subito alla cronaca, la squadra di Pippo Romano tenta un affondo con Odorato, il cui colpo di testa finisce fuori. Il portiere del Gela, Biondi, si fa trovare pronto su una conclusione dei campani. Il Gela ha l'occasione di portarsi in vantaggio al 32esimo, la conclusione di Marinali, deviata dall'estremo difensore di casa Sorrentino, sbatte sulla traversa. Ancora Gela in avanti ma succede poco, tutto invece accade nella ripresa. Biondi è pronto ad alzare sulla traversa un attacco campano e al quinto arriva il gol del Portici. A realizzarlo è Di Pietro, un gol da Cineteca. I napoletani cercano subito di bissare in due occasioni consecutive. Alla sedicesimo c'è un calcio di rigore assegnato dall'arbitro De Tommaso di Rieti per fallo di Biondi con conseguente amulizione. Dal dischetto si incarica Maggio che non fallisce, 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, Biancazzurri sono vivi e ci provano in ben tre circostanze. In una è bravo il portiere di casa a smanacciare in angolo. Sul capovolgimento di fronte i campani potrebbero triplicare. Trisse che arriva in zona Cesarini. Altro penalty e altro gol. Finisce 3-0. Una sconfitta che può starci in merito alle tante essenze di rilievo nella compagine tanto cara al presidente Angelo Mendola. Adesso sarà importante recuperare gli uomini chiave. E domenica prossima, altra trasferta. Campanaro e Soci giocheranno contro la cittanovese. Da domenica bisogna cambiare registro, assolutamente. Le altre scappano e il Gela non può più permettersi altri passi falsi.